E' di oggi la notizia che il Partito Democratico apre in Molise all'Udc per un'alleanza per vincere le prossime regionali. Scusate che siamo venuti a sorridere, ma dobbiamo capirci un attimino qui. Mi fa piacere che il Partito Democratico ogni tanto tiri fuori qualche proposta. Certo poi va a sbattere contro un muro, però l'importante è che batta un colpo e si faccia presente. Ora c'è da dire al Partito Democratico, tutte le proposte di programma e di alleanza vanno portate all'interno della coalizione di centro-sinistra, la cui leadership è di Paolo Di Laura Frattura. Quindi se voi volete mettere l'Udc insieme a SEL, a Rifondazione Comunista, a Comunisti Italiani e all'Italia dei Valori, venite al tavolo della coalizione e proponetelo. Vediamo tutti gli altri partiti cosa vi rispondono, perché sono proprio curioso di sapere cosa hanno da dirvi gli amici di Rifondazione e di SEL, la Federazione di Sinistra e SEL su questo argomento. Perché non è possibile pensare, secondo me, di allearsi con l'Udc del Molise che per dieci anni è stata complice di Michele Iorio. E attenzione, non dico collaboratori, parlo di complicità nella gestione del Molise. Come avete visto dove ci troviamo, nel Baratro e nel Baratro ci ha portato Iorio e la sua coalizione, quindi ci ha portato Iorio e l'Udc e oggi volete che io mi allei con l'Udc che ha portato il Molise a questi livelli. Parliamo di coalizione, vediamo tutti gli altri amici cosa hanno da dire. Certo, se poi tutti i segretari regionali del partito dicono che è bella l'idea, vuol dire che non abbiamo capito niente noi dell'Italia dei Valori. E poi soprattutto vuole tanto sapere cosa ne pensano gli elettori del PD di questa proposta e gli stessi dirigenti del PD. Perché insomma uscire con queste trovate senza neanche confrontarsi con la propria base è veramente doloroso per il Partito Democratico. Ma comunque aspettiamo gli esiti. Grazie.